Qui a Nexa Center abbiamo fatto un workshop chiamato Hack dei Dilemma e siamo partiti spiazzando un po' i partecipanti mettendo in luce quali sono i vantaggi della disconnessione e poi abbiamo chiesto a loro di pensare ad un gruppo di vantaggi della connessione, un gruppo di vantaggi della disconnessione in modo tale da poter poi trovare dei dilemmi scegliendo un vantaggio di uno e un vantaggio dell'altro che poi abbiamo cercato in qualche modo di hackerare sviluppando strategie o soluzioni o prodotti che potessero risolvere il dilemma generato. Grazie a tutti.